Contro ogni mia previsione, il Calippo Tour ha continuato a colpire, ancora e ancora. Non vi ho ancora parlato del Chinotto Tour, ma per quello ci sarà un'altra occasione, e tutta questa vicenda sta diventando davvero, ma davvero inquietante. Ad oggi però, per quanto riguarda il Calippo Tour, ci sono dei nuovi sviluppi, una probabile relazione, e che ci piaccia o meno anche questo è internet. Io mi occupo di internet, eccoci qua. Buonasera visualizzazioni e bentornati in questo nuovo video. Del Calippo Tour ne stiamo parlando tanto, ma tanto tanto. Ma il Calippo Tour, all'apparenza un argomento così scialbo, ed effettivamente un pochino lo è, nasconde qualcosa di cui parlare che sinceramente mi inquieta parecchio, e mi fa anche chiedere come sia possibile che questa roba non soltanto sia socialmente accettata da tante persone, ma allo stesso tempo se ne parli sei cattivo. Quindi mettiamo in chiaro le cose. Quello che sto facendo è semplicemente tenere una sorta di diario di bordo di questa roba che piano piano viene cancellata, poi ricaricata, non si capisce. E se qualcuno deve prendersi l'ingrato compito di ricordare a tutti quanti che questa roba non soltanto esiste, ma ci sono anche dei motivi ben precisi per cui funziona, eccomi qui. Per quanto riguarda invece ciò che andrò a farvi vedere e commentare oggi, ve lo dico già da ora, ci saranno veramente veramente poche parole, la musica sarà sempre la stessa. Ed è proprio per questo che indosso questa maglia, The Sando Silence. Non è soltanto un tributo ai Disturbed, ma è anche quello che avrò in testa per tutta la durata del video. Comunque se la volete la trovate su Pampling, e utilizzando il mio codice sconto Gematrian non soltanto risparmierete su tutto ciò che è presente sul sito, ma otterrete anche un paio di calzini gratis. A quest'ora sarebbero dovuti già esplodere sotto di me perché mi ci alleno, quindi... Tornando a noi, Calippo Tour. Oddio madonna. È spuntata nuova roba, ragazzi, ma ciò che voglio farvi capire oggi è soprattutto un concetto fondamentale. Che questa roba sia scritta e registrata a tavolino, ormai non ci sono neanche più i dubbi. Che queste tizie facciano veramente qualcosa di quello che raccontano, neanche su quello ci sono i dubbi, perché ci sono i video che stanno circolando, che loro stesse vendono, poi, ovviamente, come vi dico spesso, volete fare OnlyFans questa roba qua e vi dovete ricordare del fatto che non è che state in casa vostra e tutto quanto sia su internet e per quanto ci siano state anche delle cause in tutto il mondo, ma anche in Italia, per cui i contenuti postati su OnlyFans e venduti su OnlyFans venivano comprati dalle persone che le scaricavano, comunque le registravano in qualche maniera, e le ricaricavano sui siti esterni, certo, è sbagliato, penso che sia anche illegale. Questo non vuol dire, però, che quella roba non ci possa segnare a vita, perché la memoria delle persone, purtroppo, non la si può cancellare, quindi... Guadagni facili? Boh, non lo so, fate voi. Se avete da vendere la vostra dignità e non avete problemi con questo, fate voi. Tutto il resto del genere umano normale venga con me. Dato che mi ha bloccato dappertutto, non mi resta che fare questo video. Ti chiedo almeno di riprovare di frequentarci. Se mi dai questa seconda possibilità, ti prometto, ti prometto, Guglielmo, di smettere con il tour. È una cosa così fuori testa che se non avessi visto con i miei occhi che questa roba la fanno veramente, io non ci crederei mai, cioè se qualcuno venisse a raccontarmi che qua ci stanno queste due che hanno praticamente dato il via a un trend nel 2024 nel quale le ragazze vanno in giro per l'Italia a svendere il proprio corpo in maniera proprio sistematica con tutte queste trame, sottotrame, che rendono anche la vicenda tutta quanto appassionante. Io non ci crederei mai se non avessi visto questo. Vi ricordate, no, tutto il fatto che lei diceva di essere incinta del dottor Bavaro, lui che diceva di averle denunciate e per me, poi mi è stato anche dato del maschilista per aver detto questa cosa qui, ma per me l'unica persona che effettivamente, non lo so, mi fa ridere in questa questione ma in maniera simpatica, è il Bavaro. Più che altro, ma non perché sia un uomo, madonna, uno deve anche spiegare queste cose. Non è che il Bavaro mi sta simpatico in questa vicenda perché è un uomo, cioè se fossi maschilista sarebbe abbastanza il contrario, quindi, ah, sono le donne perché così magari ci accucchio qualcosa. No, non è quello il punto. E che queste due mi stanno facendo venire voglia con questa recitazione, con questo contesto e tutto quanto, di scoprire che sapore ha il mio detersivo per i pavimenti, cioè quello è il punto. Almeno il Bavaro nel suo personaggio, poi ovviamente io seguo anche altre cose che vanno oltre questo personaggio e il Bavaro. Quindi tutto l'allenamento, tutta la cosa, tutta la roba un po' più personale, la conosco forse anche un po' quello che me lo fa stare di meno cazzo in questa vicenda. Però, capito, guardi il Bavaro, due risate te le fai. Guardi questa qui, ma che c'è, come fai a voler anche soltanto ridere in maniera genuina? E attenzione, io qui non sto parlando né dell'aspetto fisico né di niente, io sto parlando proprio del fatto in sé che mi turba di questa qui, che adesso è riconosciuta in tutta Italia per questo, cioè ragazzi. Oddio, madonna, sarà veramente una sezione commenti difficile quella del video di oggi. Non sai niente. No, mi piace. Uh, allora, ragazzo di Lugano, hai mandato tipo 20 foto uguali. No, letteralmente. Sicuramente non è. Calipo chiuso o un pochino aperto? Cioè tipo l'apertura del calipo. Guarda quanto hai fatto, guarda, guarda, guarda. Lugano, 5. Ma andate le foto. Ma andate le foto. No, sempre uguali. Perché ho mandato sempre le foto uguali? Magari ho mandato tipo 10 foto, tutte uguali. 10 foto, tutte uguali. Come vi permettete? Ragazzi, un po' di varietà, un po' di cose. Anni e anni di lotte per i diritti delle donne che, ecco qua. La cosa più bella è che anche qui, quando ho reagito a queste clip la prima volta, no? Quando ne ho parlato la prima volta, io sono stato assaltato, ma letteralmente assaltato, e sto parlando anche e soprattutto nel privato, da gente che fa questa cosa e che cerca in qualche modo di farsi passare come sensibilizzatore per i sex walk e tutto. Ragazzi, si può avere dignità anche facendo questi lavori, non sto dicendo di no. Poi ognuno fa le sue scelte e quello che ho sempre detto è soltanto una cosa. Non potete sorprendervi se scegliete quel percorso nella vostra vita e poi ci sono delle conseguenze. Non potete pensare di essere trattati come un neurochirurgo. Se giudicate i pisari della gente su Instagram, cioè ragazzi, con tutta la buona volontà, ma perché? Devo anche scusarmi di questa cosa? Non esiste. A meno che non abbiate voglia di farvi fare un'operazione a cuore aperto da chi fa queste cose. In tal caso, mi dispiace per voi, non avete tutto questo spirito di autoconservazione come animali proprio. Davvero io fatico a comprendere come questa cosa possa essere emancipazione femminile. Sono molto sincero, non esiste a mio parere cosa meno emancipante per una donna dell'essere trattata da oggetto, soprattutto se è in questa maniera così squallida, così gretta e voler anche insegnare a tutti quanti come si vive. Cioè, ragazzi, queste qui staranno interpretando un personaggio, ma le persone che le sostengono veramente hanno qualche problema, a mio parere. Ma io non dico tanto, ragazzi, perlomeno la decenza di ammettere quando qualcosa, palesemente, lo si fa soltanto perché si è dei morti di f***a. Non c'è niente di male nell'ammettere di avere una debolezza di questo tipo, però bisogna ammetterla, perché veramente. Ci sarà un motivo se a me una cosa del genere non tange minimamente, cioè se mi si presenta davanti una del genere. Fidanzato o non, io proprio... Non mi è mai interessato, sono sincero. Come ho detto tante volte, le possibilità ce le ho sempre avute e questo tipo di gente mi ha sempre scritto, ma non perché io sia speciale, semplicemente perché fai un lavoro in cui c'è tante persone che ti guardano, la gente ti scrive. Anche in questi casi per ciucciare quel poco di fama, a volte addirittura immaginaria, cioè delle cose pazzesche. Non ho mai accettato una roba del genere più che altro perché non esiste, cioè non t'azzardano. La cosa bella è che poi la gente accomuna questa come figura alla figura dell'influencer. Anche qui, esattamente come le sex walker non hanno assolutamente bisogno di diventare dei buffoni per poter lavorare in questo campo, c'è gente che ha più dignità di questa. Gli influencer non so tutti così, ragazzi. Questa è la fogna della fogna degli influencer. E se la pensate diversamente, non fate questo lavoro perché altrimenti lo sapreste. Tutto, tutti ostacoli. È vera, non sto rispondendo lei, eh. Ha ragione lei, cioè. Ho capito, ho capito. Quanto ti voglio baciare. Ti voglio conquadare tutto. Ragazzi, ho i prividi del cringe in questo momento. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Sei poco convinta. Questi salottini sono creati apposta per far parlare, serve per vendere, ok? Non è che questi qui siano tutti rincoglioniti che stanno qua davanti a perdere dignità per niente. Lo fanno per soldi perché vendono questa roba, OnlyFans, quello che è, cioè a prescindere un prodotto. Quindi che vi piaccia o meno il prodotto di queste qui sono... Insomma, ci siamo capiti? Io smetto, ti avevo detto, amore mio. Vieni a Milano. Settimana prossima vengo a Milano, allora. Questo è un passo avanti. Vabbè, ragazzi, allora poi organizziamo un evento speciale. Ma, Bavaro, fai il baby shower? Facciamo il baby shower, ragazzi. Sì, questo lo facciamo, è ovvio. Ma ci inviti. Scusate, a questo punto non è idea. Vuole sentire. Dottore, baby shower in live, cioè a sto punto. Ma è smuffare. Però posso essere sincero? A me queste cose fanno grepà. Dai, dottor Bavaro, la smetto di spogliarmi davanti a una telecamera con degli sconosciuti. Dai, facciamo un figlio. Incredibile, ragazzi. Io ti giuro, questa roba... C'è tanta gente che mi sta dicendo perché ne parli? Ci sono argomenti più così colare. Ragazzi, perché ne parli? Innanzitutto è divertente. Dopodiché, è importante, a mio parere, deridere questo tipo di atteggiamento per un singolo motivo. Secondo me, se fai quello che faccio io qui su internet, ovvero di parlare della cultura dell'internet, queste cose qui, ragazzi, un ton dark ci avrà Jupiter the Hybrid, noi fenomeni italiani ce li abbiamo. E che non ne parliamo. È normale che ne parliamo. Sono sincero, però, vedere tutta questa disfunzionalità, tutta quanta messa in un singolo calderone, è qualcosa di incredibile. Più che altro bisogna essere bravi a mantenere il personaggio, eh? Oppure bisogna essere veramente disperati, perché, come dico spesso, secondo me, chi mette su questo tipo di teatrini non è che abbia altro da offrire. Ci sono addirittura delle persone che disperate si sono messe a scrivere a queste tizie, dicendogli, dai, smettete di fare questa cosa, perché io vi porterò sulla retta via. Ma che retta via, ragazzi? Ma secondo voi ci hanno qualcos'altro da offrire? Delle persone che si fanno ridere dietro da tutta Italia per mettere su questa roba? Poi in questo momento non ho capito, devo ancora informarvi, ma ne riparleremo. Se non ho capito male, stanno venendo fatte delle indagini, non vorrei usare la parola sbagliata. Però comunque si sta indagando se questa roba è il Calippo Tour, sia una truffa oppure no. E io non vedo l'ora di vedere, effettivamente, qualche carta scritta, per adesso io mi taccio, non posso dire assolutamente niente, ma non vi nascondo che una piccola ricerchina per i fatti miei, io la sto facendo. Quando e se arriverà qualcosa, ne riparleremo, senza nessun problema, ma noi abbiamo ancora da trattare il Kenotto Tour, le cose, ha voglia, ha voglia. E se qualcuno pensa davvero che di questa roba non bisogna parlarne, non ha capito assolutamente né come funziona internet, e quanto, secondo me, cioè io non è che ne parlo così soltanto perché è il fenomeno del momento. No, 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 secondo me è veramente importante mettere in guardia ragazzi e ragazze molto giovani che vedono questa roba e gli viene spacciata per successo. Vi posso assicurare che nessuno, i piani alti di nessun settore, ha mai fatto una roba del genere per diventare qualcuno, ve lo assicuro. Ve lo ricordate Rosario Muniz un po' di tempo fa? Ve ricordate Sara Tommasi un po' di tempo fa? Ecco, i discorsi che venivano fatti erano più o meno questi qui. Discorsi del tipo, eh, vedi, però lei ci ha messo pochissimo, lui ci ha messo pochissimo a fare qualcosa, a diventare qualcuno. Beh, se voglio essere ricordato come Rosario Muniz, buon per te, però non è l'obiettivo del 99% dell'umanità, ecco. Poi, state bene in queste vesti, state bene in questa roba, io chi sono per negarvelo? Io semplicemente prenderò i popcorn, la telecamera e mi godrò lo spettacolo, come sempre. E il fatto che il Calippo Tour sia tutta quanta una cosa recitata e tutto quanto, lo vedete anche, per esempio, dal canale YouTube. Questo qui è il canale YouTube del Calippo Tour e i video che ci sono sono più o meno di questo calibro qui. Eccoci! E poi, facciamo un video tipo vendetta, perché il signorino Bavaro ha detto beh, potete scoparvi chi volete, fate quello che volete. Avete presente tutte le volte che viene detto ma poverine, non sanno come farcela nella società di oggi, che i ragazzi non li sproi e tutto quanto? Che è vero! Però una cosa del genere la posso dire io, non una che fa questa roba, che va per hotel e cose del genere. Ma quella non è una situazione di disperazione, di necessità. Quella è la situazione che non vuoi fare altro, che non vuoi sgobbare, che puoi campare su dei poveracci e su degli sfigatoni che a loro volta non vogliono lavorare su se stessi per eventualmente trovare l'amore della loro vita a quello che in realtà vogliono. E decantano tanto e gli spilli soldi su OnlyFans, cioè alla fine quello è il discorso. Poi ovvio, c'è la richiesta, c'è la cosa, ma moralmente a me fa schifo e opinione mia personale loro sono liberissimi di fare quello che vogliono, ci mancherebbe. Infatti non ho ancora capito questa cosa del se parlo negativamente di qualcosa allora nella testa di qualcuno sto impedendo la libertà individuale. No, 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 no. La libertà individuale funziona che tu fai quello che vuoi ma pure io faccio quello che voglio. Sempre mantenendosi un attimino nella grazia di Dio, nel rispetto di tutto quanto. Alla fine pure loro non è che mi vietano di parlare di questa cosa perché chiariamoci, pubblicità gratis, però là bisogna anche un attimo capire che tipo di pubblicità vuoi. Io sono semplicemente curioso di sapere queste qui che fine faranno tra qualche anno perché secondo me internet non se lo sono mai studiato, non sanno che fine hanno fatto questi fenomeni nel corso degli ultimi vent'anni ma anche di più basta pensare anche alla televisione, proprio la prima televisione quando c'erano cose di questo tipo o magari c'era qualche personaggio molto 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 controverso che può restare in da cose. Ve l'ho detto tantissime volte se mi interesso di questa roba è perché è importante anche se non sembra quindi consiglio mio spassionato cercate di costruire mattoncino mattoncino quello che è la vostra vita, il vostro percorso perché queste scorciatoie non vi porteranno mai da nessuna parte ragazzi io sono proprio sincero vi possono piovere soldi addosso se vi va bene ma quello è proprio l'1% dell'1% della gente che si vede piovere soldi addosso per un pochino e poi dopo un po' finisce dopo un po' che vuoi fare vuoi partecipare a qualche podcast in cui vai lì e c'è qualche altro fenomeno che ti tratta come se fosse un premio nobel quando l'unica cosa che hai fatto per essere ricordata e spogliarti davanti a una telecamera fingere una gravidanza per una soppopera trash mazza che grande obiettivo come vi ho detto tante volte tanti di voi che mi stanno scrivendo ma io che cazzo faccio a fare università perché studio devo mollare la scuola ragazzi se volete diventare un soggetto di questo tipo siete liberi di farlo il punto è che non pensate che la vita vi sorriderà anzi io darei tutto quello che ho per non scambiare mai la mia vita con quella di personaggi di questo tipo e io posso dire che sono uno che è arrivato dalla povertà e tutto quanto che non ci ha avuto le possibilità e comunque ha cercato di fare qualcosa ma non è che mi so spogliato davanti a una videocamera capito? anche perché nel mio caso non so quanti fregherebbe ma non è quello il discorso nel senso pure il dottor Bavaro c'è la OnlyFans e non mi sembra quel tipo di persona che non ha avuto possibilità e tutto uno fa delle scelte poi nel suo caso non fa il piangina ecco infatti a me il dottor Bavaro come personaggio piace anche per questo che non è che ti viene a dire mamma mia non so come prendere soldi no è ricco di famiglia te lo dice non gliene frega niente ha scelto di fare quello perché se lo può permettere che pensate che un sacco di gente che vedete che piange miseria piange miseria veramente o lo fa soltanto per fare la scena cioè ragazzi a volte io vi ho parlato di una mia situazione un pochino così ma non è che ve l'ho fatto da una Lamborghini o non è che ve l'ho fatto tenendo cazzo io so un Rolex da un milione di euro al polso 50 euro cioè nel senso è quello delle comunioni questo qui perché non me ne frega e non ce li ho quei soldi quindi sti cazzi però ecco cercate anche di capire che quando qualcuno piange miseria e dice ah oddio non so cos'altro fare devo fare per forza questa cosa perché altrimenti l'Italia per noi giovani non fa niente e tutto quanto che ripeto come discorso non è che sia completamente falso il punto è che me lo sta dicendo una che si spoglia davanti alla videocamera e le piove dei soldi addosso cioè la difficoltà qual è? che in alternativa avresti dovuto fare un lavoro vero? cioè è quello il discorso come vi dico sempre fino a che ci sono i soldi per me sta apposto non è che me li stanno togliendo a me però la moralità di questa cosa non mi fa impazzire non ve l'ho mai nascosto e ognuno tragga le proprie conclusioni a me non interessa così come non mi interessa essere per forza quello che qualsiasi lavoro esista devo essere per forza pro ragazzi io faccio youtuber penso che siamo dei lavori più bistrattati e insultati dalla gente eppure non tolgo niente a nessuno non faccio del male a nessuno soprattutto non sfrutto la debolezza mentale altrui per portare i soldi a casa quindi se c'è qualcosa che non mi è mai piaciuto di OnlyFans è proprio questo discorso gente che cerca affetto che invece si trova davanti tutta una corporation un qualcosa che c'è anche lì capi OnlyFans una cosa solo tra di noi ah ah quante sono OnlyFans ad avere il management che parla con i clienti quindi ti vedi il ragazzetto un po' solo oppure l'uomo solo che va lì per cercare di non so neanche che cosa perché anche lì ci sono dei problemi che invece si trova davanti una chat in cui parla con Franco un manager di 54 anni con la panza la Peroni che chiede ad Alexa quanto ha fatto il Milan insomma cioè è il solito è per questo che a me non piace questa roba poi ci sono delle persone che lo fanno in maniera più amatoriale lì io posso pure dire vabbè che me ne frega però quando si parla proprio di fare questa roba qua oh sarà legale non lo so non mi interessa per me è qualcosa di aberrante e non ve l'ho mai nascosto detto questo questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il Calippo Tour che continua a colpire questa telenovela sva avanti che va avanti e a noi alla fin fine ci facciamo le nostre quattro risate e ci va bene così fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi come non lo so qualsiasi cosa non so cosa ti possa pensare però effettivamente vista la mole di insulti che mi arriva ogni volta che ne parlo le opinioni a riguardo sono abbastanza divise non so come sia possibile ma insomma qualche piccolissimo avviso prima di chiudere ovviamente io vi ricordo di scrivervi che qui sotto avete pampling ma c'è anche dell'altro sul canale potete trovare dei contenuti per abbonati quindi se vi piace quello che faccio se volete vedere un po' un po' più approfondite che in un video normale io so sincero non saprei dove mettere però sono tante cose interessanti magari anche un pochino delle mie esplorazioni delle mie cose potete abbonarvi i prezzi sono umani cioè si parla di 3 o 7 euro cioè c'è un livello da 3 e un livello da 7 euro non si chiede una 120 euro per vedere un video ok ho tutta una serie di vantaggi e tutto quanto ma non è l'unica notizia ragazzi perché in tutto questo io ho ricominciato a fare qualche live su Twitch chi mi segue da tanto sa benissimo quanto per me sia stato in questi 3 anni veramente difficile anche soltanto l'idea di tornare a streammare però a un certo punto mi è mancato sto cercando di riprendere il ritmo un pochino per adesso sto facendo un paio di live a settimana quando ho tempo perché le cose da fare sono davvero tanti tra lavoro qui su YouTube allenamenti che sono veramente tantissimi e ho cominciato a fare tante cose quindi mi sto un po' dividendo sto cercando di trovare un equilibrio però ogni tanto ricomincio anche a streammare per adesso mi sto facendo qualche chiacchierata sto portando qualche gioco ma non mi dispiacerebbe anche parlare di qualcosina che trattiamo qui sul canale magari semplicemente a chiacchiera capito? se volete passare io sono lì e finché non ci sarà un calendario definitivo io vi aggiornerò su Instagram magari su Telegram e questo è quanto io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima